Dell'intera giornata napoletana del Presidente del Consiglio Mario Monti, che si è conclusa con la visita pomeridiana al Museo di Capodimonte, più che il piano per il rilancio degli scavi archeologici di Pompei, passerà alla storia soprattutto la chiosa finale del Premier nella conferenza stampa in Prefettura sulla riforma del mercato del lavoro. Sollecitato dai giornalisti in sala, il passaggio del Premier sull'improbabile reintegro dei lavoratori licenziati ha scatenato un putiferio sia tra i sindacati che tra le imprese. La prima a scagliarsi contro il Governo è stata la Presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, che ha bollato come pessima l'intera riforma su cui l'esecutivo si appresta a mettere la fiducia per il passaggio alle Camere. Mario Monti è convinto di aver intrapreso la strada giusta e sembra non curarsi che le misure contenute nel DDL che si appresta a varare il Consiglio dei Ministri stanno spingendo molti lavoratori a proteste estreme. Proprio ieri a Napoli, durante la conferenza del Capo del Governo e dei quattro Ministri, un lavoratore aveva tentato di darsi fuoco in strada. Un episodio che però Mario Monti ha preferito non commentare.